D'Ambrosio con il petto per Brozovic, superato Gaic, D'Ambrosio, De Vrij, Miki Tarjano, visto Di Marco, ancora Miki Tarjano. Brozovic, palla corta, riesce a tenerla. Cialanolu, guarda la porta, calcio! Ma che gol ha fatto! È una supernova, quella che è partita dal destro di Akan Cialanolu! Wow! Mette così l'infortunio alle spalle, non poteva farlo più bello. Pura luce nel destro di Cialanolu! Torna a segnare il Turco, diventano tre i suoi gol in campionato. Inter che recupera palla, va con Lautaro, si muove Dzeko, ha servito in area Dzeko! Uno, due e tre! Tre colpi mortali da parte dell'Inter che va subito. 3-0 in sei minuti. Tre gol per la squadra di Zaghi. Anche stavolta il Verona si fa male da solo. Con questo recupero palla di Miki Tarjano. Su Tamez, Lautaro va da Dzeko. Torna a segnare un gol che attendeva da gennaio ed in Dzeko. L'ultimo era stato, quello con il Napoli. Poi tanti errori, qualche prestazione molto discussa, ma sempre il solito grande impegno, la grande applicazione per la squadra. Ritrova però quello che gli si chiede, il gol. Gol! 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 Grazie a tutti.